E adesso appuntamento tutto dedicato alla politica perché ascoltiamo l'intervista al sindaco di Napoli Luigi De Magistris che si è espresso rispetto a svariati temi che riguardano il nostro territorio. In primis il colloquio avvenuto con il sindaco di Milano Sala rispetto a determinati temi e chissà se non abbia lui poi trovato un confronto anche con la città del nord Italia. E poi altri temi che riguardano il lavoro, insomma riguardano anche l'ordine pubblico, la gestione soprattutto del maltempo che c'è stato a Napoli negli ultimi tempi. Insomma ascoltiamo anche la nostra intervista. Il nostro consueto appuntamento con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per conoscere le novità del nostro territorio e non solo. Salve sindaco, ben ritrovato. Benvenuti, grazie. Una delle prime novità da comunicare ai nostri telespettatori è che il sindaco di Milano Sala è venuto a Napoli e lei ricambierà questa visita ai primi di marzo. Che cosa può portare questa sintonia tra due città così lontane ma così vicine sindaco? Innanzitutto l'idea nasce dopo i gravissimi episodi di San Siro del 26 dicembre con i cori di razzismo nei confronti di Calidu Colibali. Concordammo di mettere in campo un'iniziativa che nasceva dal no al razzismo però cogliere l'opportunità di un dialogo tra i sindaci delle due capitali, una del nord e l'altra del sud, impressione di un'Italia unita nelle diversità, di sviluppo, di investimenti, di lavoro, di cultura. È nata una giornata molto bella, appunto quella dell'altro ieri a Napoli, alla Sala del Capitolo dove ci siamo confrontati. Io andrò il 12 marzo a Milano dove ci sarà più o meno lo stesso format. Abbiamo dimostrato che le città oggi, in particolare Napoli e Milano, sono il motore dell'Italia. E se il governo, i governi comprendono bene che l'Italia riparte soprattutto dalle città, dai territori, dai suoi abitanti, è lì che c'è il cuore pulsante dell'economia, degli investimenti, dello sviluppo e del lavoro e non ci mettono le zavorre che ci costantemente frappongono nel nostro cammino, l'Italia potrebbe andare ancora più forte, più coesa, senza rancore, senza razzismo. E il messaggio che abbiamo dato, Napoli e Milano, due città molto diverse, due sindaci molto diversi che però vogliono dialogare per la democrazia e per il nostro paese. E allora io le chiedo se potrebbe con il sindaco Sara nascere anche un'intesa politica? No, l'intesa politica è un'altra cosa. Le città non hanno bisogno di intese politiche tra i sindaci, hanno bisogno di un dialogo corretto tra i sindaci, di un rispetto dei sindaci, anche un bel rapporto tra i sindaci come c'è tra me e il sindaco Sala che abbiamo su alcune questioni idee differenti, su altre questioni idee molto simili ma entrambi riteniamo che le due città, Napoli e Milano, sono quelle che in questo momento più traenono il paese. Milano da un punto di vista finanziario, economico, salda nel cuore dell'Europa, Napoli, capitale del Mediterraneo, oggi è il motore per l'energia, l'umanità, la cultura, i giovani, la partecipazione. Siamo i due principali attori del cambiamento positivo del nostro paese. Senza nulla togliere altre città, gli altri comuni, però a nessuno sfugge che Napoli e Milano, messe insieme come aree metropolitane, andiamo a circa 10 milioni di abitanti. Quindi i governi dovrebbero incominciare a comprendere dove sta la forza del paese e quindi non sarà casuale che ci mettono sempre zavorra, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia. Sono stati giorni molto difficili a causa del maltempo, sebbene le condizioni stiano tornando piano piano alla normalità, scuole chiuse, alberi a rischio. Cosa si può fare oggi sul piano preventivo, sindaco? Ci dobbiamo abituare ai cambiamenti climatici. Chi ritiene che non esistono dice una bugia. Purtroppo ne abbiamo avuto noi a Napoli testimonianza con lo tsunami atmosferico del 29 ottobre scorso. Ancora oggi abbiamo danni e conseguenze aggravati dagli eventi atmosferici di sabato e in parte anche domenica mattina. Danni enormi. Sul piano preventivo sarebbe necessario un investimento del paese per mettere in sicurezza l'Italia. Non fare opere pubbliche inutili, mettere in sicurezza i territori. Noi che cosa possiamo fare? Dalle città con pochissime risorse. Destinare quel poco di risorse che si hanno per contrastare dal basso i cambiamenti climatici. Quindi noi stiamo mettendo in campo azioni efficacissime per la messa in sicurezza delle scuole di sesso idrogeologico e quello di cui andiamo molto orgoglioso, un grande piano green per il verde, per i parchi e per le nuove alberature. Ci saranno migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di alberi in tutta l'area metropolitana, grazie a un finanziamento che ho fatto come sindaco della città metropolitana, che consentirà di vedere nuovi alberi che forse da 20, 30, 40, 50 anni non vengono piantati nei nostri territori. Questo aiuta, come aiuta l'illuminazione a LED che stiamo mettendo in città, che abbassa moltissimo l'emissione di CO2, così le azioni che stiamo facendo sul porto, sui fumi delle navi, così sulle penalizzazioni ZTL, che alcuni a certe volte sono contrari, ma quella è anche una misura per contrastare i cambiamenti climatici. Questo si deve fare. Le persone devono comprendere che sta cambiando il pianeta per colpa dell'uomo che negli anni, un poca la volta, lo sta distruggendo. Altra notizia, il Ministro Lezzi ha annunciato lo staziamento di fondi per Bagnoli. Che cosa vogliono significare questi soldi per il territorio, secondo lei? Troppi annunci, promesse, non metto in dubbio nulla. Anzi, sono convinto che quello che ha detto il Ministro è vero, ma noi abbiamo bisogno solo di una cosa. Siccome abbiamo chiuso accorti, queste cose ci sono state promesse da mesi. Vogliamo vedere le ruspe, ma non le ruspe di Salvini nei confronti degli immigrati. Vogliamo vedere le ruspe a Bagnoli che il Governo manda mettendo i soldi per la bonifica per bonificare Bagnoli dall'amianto e dagli altri rifiuti. C'è l'accordo, si deve solamente agire. Il Commissario faccia presto, perché noi già siamo contro i commissariamenti. Ci hanno sempre detto, anche questo Governo era contro i commissariamenti e poi l'ha mantenuto, ci hanno sempre detto che i commissariamenti erano necessari per accelerare. Qua più che accelerazione, quarta, quinta e sesta marcia, mi sembra che mettiamo sempre un freno a mano. Quindi fate presto, bene cabine di regia, bene dialogo, ma sapete già quello che dovete fare. Perché l'accordo c'è, è stato sottoscritto, l'accordo vale e nell'accordo sta scritto bonifica. Quando abbiamo firmato l'accordo? Ormai da circa un anno e mezzo. Quindi non possiamo più aspettare. Fare presto però, secondo De Luca, il Commissario Floro Flores è in conflitto di interessi. Questo è un tema, la domanda deve fare al Governo, non a me. Io ho bisogno di vedere le ruspe che bonificano Bagnoli. Il resto sono problemi che riguardano altri enti. Io sono contro i commissariamenti, sono l'unico che ha fatto le battaglie quando De Luca difendeva i commissariamenti, a seconda evidentemente delle persone che erano commissari. Non faccio le battaglie personali contro Anastasi, contro Floro Flores, contro Pasquadino, Alfredino e Gennarino. Noi siamo contro i commissariamenti, perché se avessimo fatto questo con i poteri ordinari staremmo già con le ruspe per terra. Invece hanno voluto scegliere altre strade e noi le abbiamo criticate, però siamo persone delle istituzioni. Visto che il Movimento 5 Stelle ha voluto mantenere il commissariamento, nonostante ha fatto per anni la guerra ai commissariamenti, evidentemente la faceva guerra a seconda delle persone che ricoprivano quegli incarichi, però adesso voglio dire, siccome il commissario ha poteri speciali, caro Governo, a chi aspetti a portare le ruspe per bonificare Bagnoli? Bagnoli, i cittadini di Bagnoli, Napoli, l'amministrazione comunale di Napoli, per le battaglie che abbiamo fatto e che abbiamo vinto, noi non possiamo più aspettare. Ricordiamoci che la vittoria su Bagnoli passa dallo sblocca Italia, dal tentativo di Renzi di mettere le mani sulla città, dalle vittorie che abbiamo fatto, adesso c'è un'inerzia, il Ministro Lezzi più vostro si è impegnato, io le credo, perché secondo me dice la verità, però bisogna fare presto. Devono essere anche bravi, competenti e capaci che alle parole a cui credo, parole oneste, seguano i fatti. Intanto si torna anche questa volta purtroppo a parlare di sicurezza, perché Sindaco Do per caso Sorbillo ha ancora un altro attacco ad una pizzeria del centro storico di Napoli e quindi un ulteriore attacco all'imprenditoria napoletana e faccio riferimento ai colpi d'arma da fuoco contro la pizzeria di Matteo. Le chiedo se ad ora possiamo parlare di, si deve parlare di emergenza di sicurezza, ma soprattutto qual è la situazione oggi che si vive al centro storico di Napoli? Ma secondo me, dico una cosa che non è una bella cosa quello che dico, non è un'emergenza, rischia di essere un'ordinarietà. Questo non va bene perché chi mette una bomba carta, quello che è stato, sulla saliciresca di Sorbillo, fa un attentato non solo a Sorbillo ma alla città, da ultimo chi spara dei colpi di pistola alla pizzeria di Matteo non fa solo un attacco a Di Matteo, lo fa la città. Questi non sono napoletani, noi discutiamo tanto di immigrazione, questi non sono napoletani per esempio. Cioè chi fa una cosa di queste è contro la città, perché per quello che sta diventando via tribunali per esempio, una delle città più attraversate dalla cultura e dal turismo di tutto il mondo, ditemi che cosa c'hanno di napoletano queste persone che mettono una bomba carta o sparano dei proiettili. Quindi bisogna attorno a queste persone creare il più grande dissenso della storia del popolo napoletano. Non ci devono stare ammiccamenti, indifferenze, ci si gira dall'altra parte. Quindi solidarietà che è sotto attacco ma nella consapevolezza certa che Napoli ha scelto. Napoli ha scelto legalità, contrasto alla malavita, alla camorra, turismo, cultura, sviluppo, giovani, imprenditoria. E la risposta che diamo, e stiamo accelerando al massimo, la pedonalizzazione di via tribunali con tre varchi con telecamere. Purtroppo c'è stato un po' di rallentamento perché un palo lo stiamo piazzando, sugli altri due, come si è fatto il fosso per il palo, si sono scoperti reperti archeologici. Poi che sta la bellezza della nostra città, che come scavi trovi tutto, quindi stiamo trovando tecnicamente il modo perché non può stare una telecamera appesa senza un palo. Dobbiamo vedere con la creatività che ci contraddistingue anche da un punto di vista amministrativo dove mettere queste due telecamere. Ma sarà una questione di giorni, di settimane, via tribunali completamente pedonalizzata. Più varchi, più telecamere, così anche questi nemici della città che vogliono dimostrare che adesso loro controllano il territorio, quindi avvertono le pizzerie per dire qua ci siamo noi, che comandare, qua comandano i napoletani. E i napoletani non le fanno queste cose. Chi fa queste cose è contro la città in modo netto perché la città ha scelto un'altra strada. Quindi un appello soprattutto ai giovanissimi. Scegliete lo sviluppo, scegliete l'economia, scegliete il turismo, scegliete la cultura perché oggi a Napoli si può lavorare con onestà. Non vi fate attirare da chi vi mette una pistola in mano o un facile guadagno per spacciare droga da una parte all'altra. Intanto adesso c'è uno sguardo anche sullo scenario nazionale. Io le chiedo, dopo l'Abruzzo come giudica è il vuoto in Sardegna, secondo lei è davvero in difficoltà adesso il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle sta tracollando. Io credo che è un tracollo irreversibile, sinceramente. Non credo ci sarà una ripresa. Hanno toccato il picco forse anche meritato, non lo so, non mi voglio dilungare. Io non sono un loro elettore e quindi non permetto di giudicare, ma il picco positivo l'hanno raggiunto il 4 marzo. Credo che il Movimento 5 Stelle come partito e con Movimento sta andando verso il dissolvimento. Il voto della Sardegna è un voto di vittoria netto del centrodestra, un rafforzamento di Matteo Salvini. Non credo che Zedda abbia vinto. Tutti sentono giudizi entusiastici su Zedda che è un amico che saluto e un bravo sindaco, però uno che fa per tanti anni il sindaco e non riesce a competere e arriva a 15 punti di distanza da chi ha vinto è una sconfitta netta. Quindi non vedo che cosa c'è da essere entusiastici. C'è una vittoria netta del centrodestra e una liga che ormai avanza su tutto il territorio nazionale. Ci vuole l'anti Salvini, questo è il tema. Chiudiamo con lo sport, come sempre sindaco. Si attende il big match contro la Juventus, sicuramente una sfida però forse un po' meno sentita rispetto al precedente anno, vista anche la classifica. Allora io le chiedo, secondo lei, che partita sarà? Ma la sfida con la Juve è sempre sentita, anche quando il campionato sembra praticamente chiuso, però è vero quello che dice lei, quest'anno non c'è il clima dell'anno scorso, un campionato brutto. Anche la Juve che sta così in testa non gioca un bel calcio, il Napoli non gioca il calcio dell'anno scorso, anche le altre squadre giocano male, non c'è entusiasmo. chiaramente domenica credo lo stadio sia pieno, quindi staremo allo stadio. Sicuramente è una giornata importante, ci auguriamo almeno di prenderci la soddisfazione di battere al San Paolo la Juve, però certo è un campionato che sembra non lasciare ormai più margine a nessun altro, sembra già vinto. Grazie al sindaco di Napoli, al cui auguriamo un buon lavoro. Grazie anche a voi.